Nella storica promozione in Serie A, credo Spezia Calcio, c'è una buona fetta di Sicilia e c'è anche un alcamese che è Piero Campo, preparatore atletico, a festeggiare questo importantissimo traguardo sportivo. Spezia, che è una società calcistica che vanta una tradizione sicuramente importante perché al di là dei dibattiti che possono scaturirne, ricordiamo che nel 1944 riuscì a conquistare un titolo italiano, un titolo onorifico che così è stato riconosciuto anche se vinto dai Vigili del Fuoco della Spezia, questa è una curiosità che è opportuno ricordare, è il campionato di Alta Italia, bisogna distinguere, adesso c'è questa promozione in Serie A che Piero Campo festeggia con grande soddisfazione, noi lo salutiamo, Piero Campo Alcamese, congratulazioni. Grazie Massimo, grazie mille. Ci vuoi un po' raccontare questa avventura sportiva? No, è stata un'annata molto particolare, un'annata infinita perché è durata 13 mesi, dove la squadra seppur giocando molto bene a calcio, all'inizio, le prime giornate, non riusciva a raccogliere a livello di risultati quanto produceva, quindi abbiamo attraversato dei momenti poco felici, però siamo stati bravi a tenere duro, a continuare con il nostro lavoro, a crederci, a snaturarci. Poi anche la fortuna ci ha un po' assistito e da lì la squadra ha cominciato a inanellare i risultati, abbiamo fatto 18 partite con una sola sconfitta, abbiamo toccato il secondo posto nel periodo tra gennaio e febbraio, che qui non era mai successo. Poi c'è stata ovviamente la sosta dovuta al Covid, dove è stato un periodo molto particolare perché i ragazzi, come tutte le persone, tutti chiusi in casa, difficoltà negli allenamenti, poi la ripresa, poi gli allenamenti individuali, infortuni che hanno colpito tutte le squadre, noi purtroppo non siamo stati esentati da questo, però una volta ripreso il campionato, posto che abbiamo ripreso, lo avevamo lasciato, la squadra ha sempre giocato bene, ha continuato a fare risultati, fino a raggiungere il terzo posto che già di per sé era un risultato storico per lo Spezia, perché mai aveva raggiunto questa posizione in Serie B, è nulla, poi ci siamo giocati in playoff e il terzo posto ci ha contentito di avere il vantaggio dovuto appiazzamento, tant'è che andano in pareggio con il numero di gol, siamo riusciti ad andare noi in Serie A, ecco, e ieri sera la gioia più grande che ancora devo, come dire, realizzare. Immaginiamo, come dicevo all'inizio, in fase introduttiva di questa intervista, ci sono anche altri siciliani che fanno parte dello staff tecnico, della squadra stessa, li possiamo elencare, c'è innanzitutto l'allenatore che è Vincenzo Italiano. Sì, Vincenzo Italiano di Ribera, è nato e è cresciuto a Ribera, è nato in Germania, però solo per un brevissimo periodo, poi cresciuto a Ribera, genitori riberesi, ex calciatore di Serie A, non so, la carriera parla per lui. Poi nello staff c'è anche l'allenatore dei portieri, Angelo Corracchio, il direttore sportivo Guido Angelozzi Catanese, ma anche in squadra abbiamo diversi siciliani, Ragusa, di Piaudio per esempio, insomma abbiamo una nutrita rappresentanza piccola che non guasta comunque. E non ti faccio delle domande squisitamente di mercato perché compete chiaramente, evidentemente ad altri settori della vostra società a dare delle risposte o se ci puoi dare qualche anticipazione fai pure, dimmi tu. No, Massimo, non è retorica, però di sicuro abbiamo un contratto qui con lo Spezia, quindi questa è una certezza e poi se ci saranno novità, questo io non te lo so dire, purtroppo il calcio è un mondo dove le dinamiche sono in continuo mutamento e con una velocità incredibile spesso, quindi vediamo, vediamo cosa succede. Sì, intanto tu continuerai questa avventura in questa prestigiosa società? Sì, 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 adesso anche lì è un'annata particolare perché di solito si va in vacanza almeno tre settimane, un mese, qui magari ci sta che tra una settimana devi ricominciare perché il 19 settembre c'è la prima giornata di campionato, quindi nulla, oggi riordiniamo un po' le idee e cerchiamo di riorganizzare tutto il da parte. Brevemente possiamo ricordare anche, parliamo un po' del tuo curriculum perché tu sei stato già a Trapani come preparatore, questo bisogna ricordare. Sì, ci sono stati cinque anni, il primo anno ci sono stati leggevani, poi quattro anni in prima squadra fino all'anno scorso dove con il mister siamo riusciti anche lì a vincere i play-off per regalare la Serie B a Trapani e nulla che ci è valso poi l'opportunità di venire qui a Spezia, una realtà comunque importante con una proprietà davvero, davvero importante, un presidente Volpi che è insomma una persona che si presenta da sola. Senti, ma questa situazione della pandemia, giocare in questi stati vuoti e silenziosi, certo è un'esperienza che fa un certo effetto. Sicuramente è stata una cosa veramente strana, strana, diversa perché il calcio comunque è bello anche lavorarci perché ti regala emozioni date soprattutto dai tifosi che riusciano a un stadio, io penso nel piccolo nostro, Spezia, che è una città che nel nord non ha nulla, a parte c'è il mare ma anche una passione, un calore tipica del sud e che quando la squadra insomma va bene ma a prescindere è molto attaccata dalla squadra, la dinoseria che allo stadio si fa sentire veramente tanto, insomma l'assenza del pubblico all'inizio soprattutto è stata una sensazione troppo strana perché di solito capita che fai una partita a porte chiuse per diversi motivi però una rimane. qui abbiamo fatto 10 partite a porte chiuse di campionato più le 4 nei playoff, insomma è completamente un altro sport, ti devi anche abituare a questo perché anche il fattore campo comincia poi a venire meno, infatti anche a letto ma anche nel nostro caso magari tante squadre fuori casa riescono a fricciare più facilmente, è completamente un altro sport, peccato perché i tifosi sono l'anima, la ragione di questo sport, dello sport in generale ma del calcio soprattutto. Certo è che la salute di tutti viene prima di tutto, voi come state almeno dalle informazioni che tu stesso puoi avere in questo momento, come staff dirigenziale, tecnico, giocatori stanno tutti bene? Noi da quando abbiamo ripreso credo abbiamo effettuato una trentina di tamponi perché c'è stato un protocollo molto rigido per fortuna dove ogni 4 giorni ci siamo scoporti i tamponi, ogni 15 ha trenticiero logico, quindi dei controlli molto scrupolosi, l'ultimo tampone l'abbiamo fatto l'altro ieri, insomma è andato esito negativo per tutti, quindi al momento stiamo tutti bene. Bene, ringraziamo Piero Campo, godetevi questo momento di gioia per questa promozione in Serie A, in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille, crepi il lupo, saluto a tutti, viva sempre la città di Alcano. Ma tu tornerai ad Alcano prossimamente? Eh, questo non lo so, questo non lo so, tutto dipende da se avrò dei giorni di vacanza oppure no, quindi sono come dire con la valigia che è pronta ma non so se la devo rispare oppure no. Ok, va bene, ci teniamo in contatto e rinnoviamo i migliori auguri a Piero Campo e alla società di cui fa parte, un saluto. Grazie Massimo, un saluto a tutti.